Un vero e proprio tesoretto del tutto illecito, nascosto nel bosco. Ad intercettare il nascondiglio scelto per occultare la cocaina purissima sono stati gli uomini della squadra mobile di Arezzo, guidata da Francesco Morselli. È così finito in manette un cittadino albanese di 34 anni, incensurato nulla facente, regolare sul territorio nazionale, trovato con circa tre etti di stupefacente, tenuto in confezioni sotto vuoto, nascoste in un anfratto ricavato in una zona boschiva di Ceciliano. E gli investigatori hanno pedinato il 34enne per diversi giorni, sino a scoprire il nascondiglio del prezioso tesoro che gli avrebbe potuto fruttare circa 24.000 euro. Così, quando l'uomo si è riavvicinato al nascondiglio, gli agenti sono intervenuti e lo hanno arrestato. Il 34enne era in Italia con un permesso di soggiorno per cure mediche dal momento che doveva prestare assistenza alla moglie incinta, una connazionale, ma non aveva mai svolto un giorno di lavoro, motivo per cui gli investigatori sostengono che l'uomo ragionevolmente potesse mantenersi grazie ai proventi dello spaccio della cocaina. Sul motorino che guidava, infine, i poliziotti hanno trovato altra droga, confezionata allo stesso modo di quella rinvenuta nel bosco. Il 34enne è stato così portato in carcere, l'arresto è stato convalidato, l'autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari.